Buongiorno cari amici, come state? Cari colleghi, cari genitori, cari allievi, cari tutti coloro che mi seguono, sempre li ringrazio. Ho da dirvi che questa settimana, due giorni fa per l'esattezza, è uscito su Amazon in vendita e disponibile. È un libro Easy Peace for Two Cellos, sono dei pezzi che possono essere studiati e utilizzati anche per sostenere le certificazioni Trinity College London, dal Grade Initial al Grade Four. Non mi resta che ringraziarvi, come al solito, state vedendo in sovraimpressione le copertine, in anteprima li vedete, ecco. Per chi volesse acquistarle, basta cliccare sul link In descrizione esistono in tre formati, formato digitale, ebook, in formato con copertina rigida e in formato con la copertina flessibile. Vi ringrazio tutti e vi auguro un buon fine settimana. Grazie sempre dell'attenzione e a presto.